Due morti sul lavoro negli ultimi due giorni in Sardegna, dopo il dramma di Monastir che ha visto la morte giovedì sera dell'operaio Antonello Porcu, ieri alle 15 circa, il decesso a Sassari, di Gianuario De Rudas, 43 anni, operatore di Ambiente Italia, schiacciato dal muletto di cui era la guida. Teatro della tragedia, l'ecocentro di Via Ariosto, dove De Rudas, regolarizzato da circa un anno e mezzo, stava trasportando dei sacchi con delle cialde da caffè da conferire in un cassone. Per cause ancora da accertare, si parla tra le ipotesi di un urto sul gradino, il muletto si è ribaltato. L'uomo, nonostante fosse saltato fuori, è stato travolto dal mezzo. Il veicolo, rimosso ieri da una gruda ai vigili del fuoco, è stato sequestrato dallo Spresal e dall'autorità giudiziaria. Le indagini saranno condotte dal magistrato Mario Leo e potranno forse avvalersi per chiarire la dinamica delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell'aria. Intanto, i sindacati CGL, Cisleguille e Fiadel esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia di Gianuario. Sempre le parti sociali hanno deciso di attivare una raccolta fondi a favore della moglie di Gianuario e della loro figlia. De Rudas lavorava per la società appaltatrice dei rifiuti dopo aver conseguito il titolo di geometra e aver fatto il pizzaiolo ed era molto popolare in città per il suo impegno politico e anche nello sport, in particolare come segretario della società Cosma Sassari e come dirigente provinciale del CSI.